Abbiamo la convinzione che rimanere dentro le partite cercando di superare momenti difficili poi dopo le partite si possono vincere, questo è un grande merito della squadra, è un passo importante in avanti per la mentalità e per l'atteggiamento. Sta sfruttando questo momento, questa sua condizione fisica e soprattutto psicologica ottimale, quindi ci sta dando un grande apporto e deve continuare così e dobbiamo continuare così perché dobbiamo migliorare, possiamo fare ancora delle prestazioni migliori rispetto a quello che stiamo facendo. Sbagliare fa parte del ruolo e chiaro che quando sbaglia un portiere è più evidente ma già domenica scorsa e credo che la cosa importante a livello mentale e atteggiamento di Gigi domenica scorsa ha fatto un errore, poi è stato subito pronto a rimanere concentrato, a rimanere lucido, ad aiutare la squadra e anche oggi si va tutto da pronto. Gigi lo sta facendo benissimo, sta crescendo sia mentalmente sia tecnicamente, quindi è sicuramente un grande portiere. A livello tecnico sicuramente possiamo giocare meglio, possiamo muoverci di più, possiamo creare più soluzioni, questo senz'altro sì, ma dobbiamo andare in campo con grande consapevolezza che le partite bisogna giocare 95 minuti con attenzione, con concentrazione e con determinazione.